Panerai Luminor Power Reserve, eleganza e funzionalità. Se siete alla ricerca di un orologio che sia allo stesso tempo elegante e funzionale, il Luminor Power Reserve potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Il Luminor Power Reserve è nato negli anni 90, quando Panerai ha iniziato a produrre orologi per il mercato civile, mantenendo lo stile e la qualità dei suoi orologi militari. Il Luminor Power Reserve si presenta con una cassa di forma a sandwich, spesso realizzata in acciaio inossidabile, che riflette la durabilità e la raffinatezza dell'orologio. Uno dei tratti più distintivi di questo modello è il dispositivo proteggi-corona, che ne garantisce l'impermeabilità e la protezione da urti accidentali. Il cuore del Luminor Power Reserve è il suo movimento meccanico, spesso sviluppato internamente, che garantisce precisione e affidabilità. Questo tipo di movimento, chiamato anche a carica manuale, richiede di essere caricato periodicamente girando la corona. L'orologio è dotato di una riserva di carica che varia da 0 a 72 ore o da 0 a 10 giorni, a seconda del modello. Grazie alla riserva di carica, è possibile tenere traccia dell'autonomia rimanente dell'orologio, contribuendo così alla precisione e alla comodità di utilizzo. La riserva di carica è indicata da una lancetta a forma di freccia o a forma di foglia all'interno di un indicatore sul quadrante a essa dedicato, che mostra il tempo rimanente prima che l'orologio si fermi. Il quadrante, spesso di colore nero, marrone o blu, ha numeri arabi e indici luminescenti, che assicurano una buona leggibilità in ogni condizione di luce. Alcuni modelli hanno anche il datario con finestrella a ore 3, la funzione GMT con lancetta centrale a forma di freccia, che indica un secondo fuso orario. Dal quadrante è possibile visualizzare il contatore dei piccoli secondi a ore 9 e in base al modello al suo interno è possibile visualizzare anche la funzione giorno-notte, che indica se è giorno o notte nel fuso orario selezionato. Il Luminar Power Reserve è un orologio che combina funzionalità e stile, adatto a chi cerca un accessorio di qualità e personalità.